salve a tutti e benvenuti a una nuova puntata di un caffè con la dottoressa cioffi oggi con noi abbiamo un fotografo d'eccezione un grande personaggio che appunto parla poco lo vedrete anche da video ma che ama fotografare quindi utilizza molto le immagini un po come tutti i fotografi no o gli artisti perché parlano tra il suo loro arte la peculiarità appunto di questo personaggio cari amici di un caffè con la dottoressa cioffi e soprattutto tutti gli amici di artes tv è quella appunto di creare signor g con eventi d'arte culturali e quindi stefano presente da tutti coloro che sono amici di un caffè con la dottoressa cioffi e artes tv salve a tutti sono stefano darofalo sono un fotografo e collaboro con varie testate e giornalistiche moda cultura arte stefano ci racconti un evento della tua vita che ti ha reso più forte un evento che ti ha reso resiliente oppure facciamo così un evento bello o brutto o entrambe che ti hanno reso una persona forte so che ami parlare poco ma raccontaci un po un evento o due eventi che ti hanno reso più forte i momenti più forti e più belli della mia vita sono quella che diciamo me l'ho reso molto orgoglioso e diciamo molto forte mentalmente quello là dove mi ha aiutato una mia amica psicologa e il secondo quello là più bello proprio diciamo bellissimo è la nascita dei miei nipoti di cui uno massimo e un'altra femmina è uno che mi sta rendendo orgoglio orgoglioso e che vuole fare lo chef e l'altra la femmina ha scelto stilista in moda perché vuole fare la stilista grazie stefano di essere stato con noi grazie a tutti coloro che seguono un caffè con la dottoressa cioffi e grazie a tutti gli amici di artes tv seguiteci sempre siete sempre in tanti e condividete condividete non solo un caffè con la dottoressa cioffi ma tutto ciò che concerne il mondo di artes tv e alla prossima puntata sempre un caffè con me con la dottoressa cioffi